Il giorno dopo il meraviglioso trionfo di luna rossa Prada-Pirelli nell'America's Cup femminile, si torna in acqua con il secondo giorno della finale maschile. Nei primi due match race New Zealand è in vantaggio per 2-0 con due regate di grande autorità. Britannia ha dimostrato di essere competitiva in special modo nella seconda regata, ma dovrà fare di più in partenza e nei momenti chiave delle gare per tenere la serie in equilibrio. Appuntamento alle 14 con altre due regate live su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it. Grazie a tutti.